La modernità è riempimento del vuoto, ma riempimento con accidenti, trasformati in sostanze, per cui in Africa ci sono dei neri. Il caso vuole che noi siamo più organizzati di loro, possiamo muovere guerra contro questi e dominarli. Ma questa cosa non la puoi dire, devi dirla in modo diverso. Devi dire che in Africa ci sono dei neri che sono inferiori a noi e è nostro compito, è nostro destino accettare questa differenza sostanziale e qualitativa e andare a farci delle colonie. In Africa c'è una razza diversa. Razza è il nome di una sostanza naturale che poniamo in essere per dare il nome a un accidente, una contingenza. Se ce la teniamo come contingenza e ci sentiamo troppo debole, dobbiamo invece darne un nome sostanziale. Lo Stato come Stato è troppo debole, dobbiamo dire che è uno Stato pieno di natura, cioè nazionale. Poiché non sia vero che la nazione sia il costrutto dello Stato e non lo Stato il costrutto della nazione, questo non si può dire. Bisogna dire che c'è una nazione lì bella pronta e che attende soltanto di prendere una forma politica, di divenire Stato. Scusate, ma questo lo fa C.A.S. quando sta preparando la rivoluzione francese praticamente, quando dice c'è la nazione fatta di uguali. Occhio, di uguali politici, disuguali socio-economici, ma questo diventa irrilevante, cioè questo è un fatto accidentale. E poi c'è la nazione e dentro c'è un'accidentalità che per lui è ancora veramente importantissima, cioè della gente che non si sente parte di quella nazione, si sente superiore. I discendenti dei franchi, che comandano sui discendenti dei gallo-romani. Allora, invece di dire questa differenza è una differenza accidentale, come è accidentale la differenza tra il ricco e il povero, tutti e due, il ricco e il povero, stanno dentro una nazione, In quel momento, dati i motivi politici che lo stavano muovendo, enfatizza quell'altra differenza, quella fra i nobili e il resto della nazione, e i nobili li qualificano. Mentre il ricco e il povero sono dequalificati, sono tutti e due cittadini, il nobile è qualificato. E la qualità di essere un diverso, cioè di appartenere a un'altra razza. E se non si sottomettono all'uguaglianza, se pretendono di essere diversi, bene, allora li rimanderemo nelle foreste della Franconia, dalle quali assiriscono di provenire. Questa è la costruzione di una razza, cioè si prende un accidente, in uno spazio dove ci sono solo accidenti, si prende un accidente e lo si fa sostanza. Per noi riserviamo lo spazio vuoto, liscio, razionale, dove siamo tutti uguali. Anche questa è una costruzione, come voi capite evidentemente, costruzione potentissima. E al tempo stesso è una coazione, non si può vivere diversamente che inventandosi questa cosa qui, in età moderna. È insostenibile mettere che i nobili essi stessi una contingenza. Devi dire che sono una qualità, per di più, inferiore. Come lo dovrai dire di lì a po' dei proletari, sono una qualità inferiore, cioè sono i sovversivi. Cambi un attimo il registro e vuoi tenerli dentro, quei sovversivi, perché capisci che sono troppi, allora devi dire che c'è qualcuno, una qualità inferiore, minoritaria, che è sovversiva. Saremo gli ebrei. Questo è il modo di funzionamento della modernità. Produzione artificiosa di sostanze. Perché? Ma perché le sostanze non ci sono più da un bel po' di tempo. Perché c'è lo spazio liscio. Ma lo spazio liscio è per pochi. È lo spazio della cittadinanza artificiale. E appena qualcuno viene a dire che c'è la cittadinanza artificiale, ma c'è un problema, perché i ricchi e i poveri sono un problema, allora gli si risponde che non sarai per caso un sovversivo. Non avrai per caso una qualità di totale differenziazione, di totale straneità al nostro gioco, che non ti puoi permettere di definire il gioco, perché è, a sua volta, natura, perché noi siamo la nazione. Cioè dire che lo spazio moderno è vuoto è quasi impossibile. Bisogna dire che è pieno di cose buone, contrapposte a qualche cosa di cattivo. Vivere senza la qualità, come la modernità ci costringe, è una cosa che la possono capire solo i filosofi. In questo senso è un'operazione critica. Oggi dire che la questione ecologica è una questione al tempo stesso reale e artificiale non è semplice. È reale perché è reale, è artificiale per come viene posta. È reale perché il Covid infierisce dove c'è il più alto tasso di inquinamento atmosferico, di nanoparticelle, ci sarà motivo. Poi, quando si tratta di sciogliere questo problema in modo analitico, diciamo, e lì si va sulla qualificazione. Allora ci sono i buoni e i cattivi. Questo è il mio modo di fare critica. Cioè, di portare alla luce le strutture profonde, non gli accidenti, le strutture profonde che sono cose profonde che non si vedono. Una di queste strutture profonde è quella che ci dice siamo in uno spazio vuoto, in un tempo vuoto, ma che non vuol dire omogeneo, vuol dire pieno di accidenti. E la partita la si gioca appropriandosi degli accidenti chiamati buoni e stigmatizzando gli accidenti chiamati cattivi. Razzializzando i poveri o razzializzando il nemico. Demonizzando il nemico, dicendo il nemico è pure antidemocratico. Noi democratici, lui antidemocratico. Che lui sia antidemocratico è probabilmente vero. Che noi siamo democratici, insomma. Diciamo che potrebbe essere oggetto di discussione. Questo è il punto fondamentale. Fa comprendere che la narrazione moderna è coatta ed efficace e al tempo stesso continuamente smentibile.